Salviamo l'ambiente con l'arte, l'istituto omnicomensivo Antonio Giordano di Venafro combatte da sempre contro lo spreco di eliminamento, portando avanti un percorso educativo per studenti e docenti che ha l'obiettivo di migliorare l'uomo e ciò che lo circonda. La nostra battaglia per il pianeta la fondiamo con l'arte, con la forza dell'immagine che facciamo capire che l'inquinamento è un problema di ognuno di noi. L'opera principale della nostra mostra rappresenta il cambiamento della persona in base al clima. L'idea nasce dopo la partecipazione del nostro istituto al Festival della filosofia 2019 a Modena. Il tema centrale del festival è stare alla persona, con le sue fragilità e le sue paure. Infatti quest'opera raffigura la paura più grande per il pianeta e per i suoi abitanti, il cambiamento climatico. Come possiamo vedere nella prima metà la ragazza è pura, pulita e ricca di vitalità. La nostra fonte di ispirazione è stata la primavera di molti centri. Invece nella seconda parte la ragazza è triste e ovata, vittima dell'inquinamento climatico. Inoltre di filosofia molti sono state le persone che si sono accinte a parlare dell'ambiente, dell'inquinamento e di tutte le maniere per prenderlo risolvere. Da una rapida analisi di quello che è stato il pensiero generale dei lavori contemporanei, noi abbiamo estrapolato quattro grandi frasi importanti, ovvero quattro grandi pensieri e di tre grandi artisti, pensatori e scienziati contemporanei. Il mondo che possiamo partire è di certo Albert Einstein, scienziato che tutti praticamente abbiamo sentito la prima volta nella nostra vita. Primo, non si possono risolvere i problemi del mondo con la stessa mentalità che ci ha creati. E il secondo è che il mondo è un bel posto e per esso vale la pena diventare. Gli altri due artisti nella società sono del contemporaneo, e noi frascomando con noi è Martin Heidegger di Punture, Scritture e Punture di New World. Martin Heidegger scrive che colui che rispetta l'ambiente salva la terra, nella maroninja e nella saggetta. È New World che dice a scrivere. Credo che aprire la terra con loro aminarla sarà la più bella forma d'arte che si possa desiderare. In questo lavoro abbiamo cercato di interpretare la nostra visione del mondo di oggi, rappresentandolo nei momenti in cui esplode a causa dell'eccessivo inquinamento. Come possiamo vedere, abbiamo raffigurato all'interno del mondo industrie, misuridossici e stati di oggi in genere, che noi produciamo profondamente senza riferirci al mondo. Con questa frase, Stop Gaining Cash to Feeling Gas to Cash, noi vogliamo comunicare di smettere di guadagnare ripetendoci in condizia. Vogliamo respirare il nostro futuro. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità istituito nel 2015 dei 193 Paesi membri dell'ONU. Esso incrova 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile in un grande programma d'azione. Essi sono con i 17 obiettivi e sono Povertà zero, fame zero, salute e benessere, istruzioni di qualità, uguaglianza di genere, acqua pulita e igiene, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, industria, innovazione e infrastrutture. Ridurre le disuguaglianze, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, agire per il clima, la vita sott'acqua, la vita sulla terra, pace, giustizia e istituzioni forti, partner e scitto per gli obiettivi. Salnello da 10 o'alto! Grazie a tutti Grazie a tutti